Guardate! Un aquilone! Ma no! È un aereo! No! Arriva Lucilla! Yeee! Ho nascosto per Pasqua cinque uova Dai giochiamo, vediamo chi le trova Cerca, cerca, un uovo troverai Quante uova ancora cercherai? Son nascoste ancora quattro uova Dai giochiamo, vediamo chi le trova Cerca, cerca, un uovo troverai Quante uova ancora cercherai? Son nascoste ancora tre uova Dai giochiamo, vediamo chi le trova Cerca, cerca, un uovo troverai Quante uova ancora cercherai? Son nascoste ancora due uova Dai giochiamo, vediamo chi le trova Cerca, cerca, un uovo troverai Quante uova ancora cercherai? È nascosto soltanto ancora un uovo E son certa se cerco io lo trovo Cerca, cerca, un uovo troverai Nessun uovo cercare più dovrai Cinque uova per Pasqua ora hai Ciao bambini! Vi è piaciuto questo video? Allora mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale Per non perdervene neanche uno Seguitemi anche sul mio sito web lucillakids.com E inviatemi i vostri messaggi e i vostri disegni Su Facebook e Instagram Vi aspetto numerosi! Ciao ciao! Ciao ciao!